Buonasera. Buonasera. Di nuovo qui lei? Sì. Come mai? Così? Oggi, mentre ero a casa, ho pensato meglio rimanere tra le pareti domestiche. Beh. Ma poi ho riflettuto e mi sono detto come possono andare avanti senza la speranza che offre la poesia. Ma guardi, ma lei non si deve preoccupare per noi. Tanto noi di andare avanti nel nostro piccolo ci riusciamo. Guarda, non si preoccupi. È il piacere. Dalla mia terza raccolta di poesie dal titolo Mi Illumino d'Incenso Reciterò i versi di Sono passati sette anni ma il mio amore è rimasto intatto. Sottotitolo Il giorno della riesumazione. Guardi, lei è in grado proprio di creare questa atmosfera allegra proprio nello studio. Sei venuta fuori dalla cassa perfetta come una banconota del Bancomat. Guardi, queste sue poesie sono proprio piene di speranze proprio c'è l'anelito al vero. È piacere? Scusi, scusi, scusi hai ragione. Bene, vi voglio salutare per oggi. Perché torno pure domani, no? Sì, vengono. Vi voglio salutare con la mia poesia più intensa dal titolo Il tuo respiro. Il tuo respiro a volte leggero il tuo respiro a volte intenso ieri era dolce ma adesso il tuo respiro è venuto meno. Mamma mia mamma mia ma lei proprio guardi lei proprio c'è là con noi che ci deve intossicare a rivederci guardi si allontani mamma mia ma non si può chiudere la prima barca ogni volta con quest'ansia e con questa tristezza la gente neanche la vede la pubblicità bisogna parlarne perché perché non si può chiudere in questa notte così non si può